ok eccomi in diretta sul mio canale youtube di roberto santoli consulente formato io sono roberto santoli e oggi andrò ad analizzare un po dei siti per cui farò un'analisi seo e social nonché anche marketing di siti e relativi social per cui ti mostrerò un pochettino con quali informazioni vengono indicizzate molto ricerche movimenti dai social per cui attraverso l'SMO social media optimization per cui cercherò di dare delle informazioni dei consigli su come andare a ottimizzare i tuoi canali social per l'indicizzazione anche esternamente internamente al social stesso per cui attendo altri due minuti e poi ti mostro il desktop e iniziamo un pochettino l'analisi vado per qui a condividere un pochettino la diretta e poi inizio a 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 sia software e servizi del tutto gratuiti che puoi anche tu utilizzare per le tue analisi SEO giusto un altro monetino sto un po' condividendo la diretta sui social sui miei canali social per poi iniziare è una diretta estemporanea veloce che volevo fare appena avevo un po' di tempo e mi sono deciso di farla anche perché sto per lanciare un corso in aula e volevo anche mostrarti un pochettino come si svolgerà un corso in aula dalle mie parti per cui provincia di Avellino ma cercherò nel 2020 di passare anche diciamo fuori dalla Campania per cui anche nel Lazio e in su ok per qui vediamo un pochettino allora passo nel mio desktop e iniziamo con l'analisi per un'analisi SEO devo andarmene in modalità incognito o modalità segreta eccetera dipende dal browser che utilizziamo in questo caso non ho dei problemi dati dalla cronologia di navigazione dai cookie dai dati inseriti nei moduli eccetera per cui riesco ad effettuare un'analisi effettivamente efficace per cui senza troppi problemi dovuti a tecniche diciamo a dati che sono immagazzinati all'interno dei browser per cui la prima cosa che faccio è vedere un pochettino cosa viene indicizzato in generale su Facebook per cui utilizzo il comando site site www.facebook.com per cui vedo cosa è indicizzato sono indicizzati oltre diciamo a trovare come primo risultato diciamo facebook.com vedo che sono indicizzati i luoghi per cui i places sono indicizzate le pagine pubbliche i gruppi pubblici eccetera per cui partendo dal da Facebook www.facebook.com vado a crearmi dei filtri per cui descrivo facebook.com vedo che è utile andare a fare una ricerca nel titolo come posso fare una ricerca anche all'interno dell'url nonché della descrizione per cui una self completa risultati self completa per cui posso andare a fare un filtro diciamo di ricerca all'interno del titolo all'interno dell'url e all'interno della descrizione inizio dal titolo e scrivo per cui site www.facebook.com in title in titolo due punti posso andare a cercare sia parole sparse sia parole esatte per cui per una parola esatta utilizzo virgolette scrivo corso seo e do l'invio per cui ho cercato all'interno del titolo che può essere il titolo di un evento può essere il titolo di una pagina può essere il titolo di una sede per cui diciamo la sede espressa nella pagina può essere il titolo di un gruppo di un post all'interno di un gruppo eccetera per cui corso seo esatto parola esatta all'interno del titolo posso anche trovarmi all'interno del titolo come anche all'interno della descrizione perché molte volte è così così come corso seo lo posso trovare anche all'interno dell'url per cui vado a vedermi tutti i contenuti indicizzati per cui eventi pubblici non gli eventi privati come nei post di gruppi pubblici questo diciamo gruppo vale corsi di gruppo però diciamo se vado a cliccare dovrebbe essere un gruppo o un evento un post pubblico della pagina pubblica per cui tutto ciò che è pubblico viene indicizzato all'interno di demoto ricerca per cui esternamente a facebook e questo mi deve essere utile per quanto io andrò a creare dei eventi per quanto io andrò a creare dei post all'interno di gruppi pubblici che gestisco come amministratore o delle pagine pubbliche che io gestisco come amministratore per cui tutto ciò che pubblico all'interno di facebook viene indicizzato esternamente a facebook io qui faccio la ricerca all'interno di google potrei farla all'interno di bing all'interno di andex di altri motori di ricerca per cui indipendentemente dal motore di ricerca vado per cui a trovarmi altre cose all'interno di facebook ad esempio faccio le ricerche all'interno della descrizione per cui www.facebook.com in text che sarebbe all'interno della descrizione il testo della descrizione in text in text metto sempre virgolette e cerco posso cercare anche me stesso per cui cerco roberto santoli come testo e vedo dove sono presente per cui in places grotta rinalda questo è diciamo la localizzazione della mia pagina aziendale ma mi trovo anche video che sono all'interno delle pagine aziendali e di altri gruppi e pagine mi trovo delle foto mi trovo diciamo anche in altre pagine che gestisco con i corsi marketing net nelle immagini trovo anche diciamo altri roberto santoli che non ci sono solo io su facebook che si chiama questo nome ma anche altri roberto santoli ho contato diciamo di roberto santoli in mondo molti alcuni in brasile alcuni in italia in tutto il mondo trovo dei commenti anche su eventi non miei ma anche diciamo anche miei oppure diciamo dei post ad esempio compro ad esempio un commento su un post della stonefly sulla pagina stonefly per cui trovo tutto ciò che è all'interno della descrizione che riporta nome e cognome mio diciamo al posto del mio nome e cognome vado a trovare altri termini per cui mi vado a filtrare risultati in questo modo col comando site per cui comando site io indico che tutto deve essere cercato all'interno del sito che indico dopo i due punti del site e poi con i filtri in text in title e in url tutto attaccato in url vado a cercarmi con in url i termini all'interno dell'url e questo per quanto riguarda facebook spostiamoci su instagram requisite www.instagram ti suggerisco prima di fare i filtri di applicare i filtri andarti a vedere un po' come viene indicizzato il diciamo il social perché molti social come ad esempio youtube che vediamo fa poco hanno una url che non è parlante non è self friendly per cui non ti porta delle parole l'url porta diciamo watch e poi i canali sono affanumerici come puoi vedere all'interno di potrai vedere all'interno di youtube per cui prima ti fa il set solo sul dominio su instagram ad esempio instagram oppure altro social ti voglio vedere come è strutturata la self per cui il titolo la descrizione e poi decidi di fare i filtri ad esempio sulla descrizione di instagram è sfruttabile molto il titolo più che la descrizione perché la descrizione riporta dati statistici delle citazioni gli hashtag eccetera per cui è poco sfruttabile però andiamo a vedere un pochettino cosa riesco ad ottenere anche da qua per cui site instagram.com iniziamo proprio da quello che credo sia poco sfruttabile in text direttamente dalla descrizione qui vado a cercare il mio corso wordpress ok facendo l'intext su instagram io vado a cercare la descrizione all'interno dei post per cui delle immagini quando vado a caricare un'immagine oltre agli hashtag ti suggerisco iniziare da ottimizzare tanto i testi posso anche cercarmi ad esempio trovarmi la descrizione della biografia nonché altri diciamo non ricordo se anche le stories e le descrizioni di instagram tv che sono mi pare che sono pubbliche per cui tutto ciò che testo vado per qui a dare un invio e mi trovo per cui questo corso wordpress facile posso anche andarmi a cliccare e vedere un pochettino cos'è per cui è una foto con all'interno la descrizione della foto corso wordpress per cui ha cercato ha trovato corso wordpress che ho messo fra virgolette per cui corso wordpress come parole intera e questo è uno altre cose diciamo già lo sapevo che era un po' difficile trovare diciamo corso wordpress all'interno della descrizione però ha trovato anche corso wordpress wordpress sotto forma di hashtag così come corso wordpress su una url vediamo se questa url è contenuta dentro la descrizione dentro la biografia per cui ti dicevo vai a ottimizzare la biografia che è indicizzabile sia nella descrizione della biografia sia all'interno dell'url che va inserita all'interno della descrizione come unico link cliccabile per cui è visto che devi ottimizzare le parole all'interno del post devi ottimizzare gli hashtag all'interno di post descrizione biografia eccetera e anche diciamo l'url della biografia perché sono tutti elementi che vengono indicizzati in questo modo tu vuoi ottimizzare facebook vuoi ottimizzare instagram tutti i dati pubblici di questi due social spostiamoci su linkedin per cui posso anche diciamo operare direttamente da qui v.linkedin linkedin .com per cui linkedin .com ha dell'url parlanti sì perché seo friendly per cui amichevoli alla seo per cui con delle parole all'interno dell'url nonché sfruttabili anche con il titolo e la descrizione qui abbiamo profili pubblici profili diciamo di linkedin delle persone nonché le pagine aziendali le vetrine aziendali per cui sono tutti elementi pubblici gli elementi pubblici del profilo però siamo noi a decidere quali andare a rendere pubblici quando andiamo a strutturare il nostro profilo su linkedin possiamo scegliere cosa deve essere reso pubblico e cosa no per cui abbiamo noi il controllo per cui andiamo a fare un filtro site su linkedin andiamo iniziamo con intitle per cui all'interno del titolo intitle due punti utilizzo sempre virgolette per i termini esatti per cui intitle voglio cercare cerchiamo Montemagno per cui posso anche diciamo togliere virgolette tanto è una parola sola vado per cui a cercarmi Montemagno e ho i post diciamo con Montemagno o diciamo l'autore Marco Montemagno altri post diciamo post l'ho anche trovato pulse mi pare è sfuggito post si pulse per cui gli articoli scritti con pulse o diciamo direttamente articoli che si riferiscono poi a pulse post post ok per cui diciamo trova sia articoli che post trova l'autore trova diciamo i profili per cui 5 Marco Montemagno possono esserci anche 5 persone che si chiamano Marco Montemagno altre cose sono un po' da analizzare per cui sono 10 sono qui 207 risultati con la parola Montemagno su LinkedIn e così mi vado un po' analizzare questo posso anche abbinare due filtri per cui in title Montemagno in text in text funnel scrivo funnel come parola qui mi da diciamo l'avviso di google ogni tanto google non capisce cosa sto per cercare per cui non trova niente per cui non c'è diciamo all'interno degli elementi decisabili nel motoricerca un contenuto che abbia come titolo Montemagno e come testo funnel tolgo funnel metto job e mi trova qualcosa qualcosa che abbia Montemagno nel titolo e job nella descrizione per cui job è qui Montemagno job è qui Gabriella Montemagno eccetera eccetera per cui io non ho scritto diciamo Marco Montemagno ma ho voluto cercare Montemagno come cognome per cui ci sono tante altre persone oltre al famoso Marco Montemagno che hanno il cognome Montemagno per cui sono andato a utilizzare due filtri prima di continuare voglio tornare un po' nella mia webcam e vedete se ci sono delle persone collegate delle domande potete anche farmi le domande sia in diretta che in differita per cui per cui potete farmele quando potete vedo un attimo ok per cui ti ho mostrato un pochettino su tre social come vengono indicizzati i contenuti ci spostiamo su altri social per poi andare a fare un'analisi seo con altri strumenti per cui di nuovo in desktop andiamo per qui su twitter anzi su youtube perché diciamo mi era era come te lo dicevo prima per cui site www.youtube.com torno in via e vedo come sono indicizzati per cui su youtube indipendentemente dal nome del profilo nome utente altri url sono poco sfruttabili perché abbiamo i channel come nel url e se io sfiodo qualsiasi url vedo che il formato di youtube.com slash un codice alfanumerico per cui sull'url non non perdo tempo a cercare a filtrare posso invece andare sul titolo e sulla descrizione per cui qua inizio a scrivere in title e sempre phone 11 ok mi trova tutto diciamo tutti i risultati che sono 106.000 che hanno nel titolo del video iphone 11 come termine esatto per cui recensione recensione eccetera comparazioni eccetera per cui tutto ciò che sono i video che hanno iphone 11 come titolo posso anche andare a filtrare per cui in title e poi scrivo in text e qui in text mi cerco sempre due punti ecco qui mi cerco ad esempio covered per cui per cui vado a filtrare tra iphone 11 all'interno del titolo e cover come testo per cui qui nella mostra vediamo qui si 11 cover per cui cover all'interno della descrizione può può sempre capitare che ci sia la parola che cerco all'interno della descrizione anche all'interno del titolo è molto facile che ci sia come ad esempio qui covered all'interno del titolo e poi cover cover per cui vado a farmi dei filtri all'interno di youtube e mi cerco mi trovo ciò che voglio per cui anche diciamo un una ricerca anche più avanzata prima ancora di entrare su youtube che posso farmi con i comandi di site in modalità incognita mi sposto ancora su un altro social come tweet per cui site www.twitter .com su twitter che mi ha trovato lo sono scritto www.twitter vediamo se senza www ok senza www se non mi trovo diciamo qualcosa che non voglio qualche cosa diciamo per cui 282 milioni di risultati qui io posso andare ad agire anche un po' sull'url per cui vedo subito di fare un site su twitter in url e credo che sull'url vada sui nomi sui nomi utenti per cui vado anche qui a cercare montemagno e vedo che sull'url montemagno qui marco montemagno ok hashtag montemagno sto cercando diciamo sugli url qui montemagno status ancora twitter montemagno montemagno e poi status eccetera per cui ho fatto una ricerca di parole all'interno dell'url vado ad abbinare anche sul titolo per cui intitolo e qui mi vado a trovare ad esempio già ho un risultato fiorello ok per cui montemagno all'interno dell'url e fiorello all'interno del titolo e anche qui ho visto come vengono indicizzati i risultati per cui molto del profilo ma potrei anche trovare ad esempio delle dirette per cui speri scope con twitter per cui anche il site sul su tweet è così vediamo tiktok che mi pare che è pure .com vediamo un po' punti non ricordo se www.tiktok .com si per cui tiktok abbiamo il titolo la descrizione l'url dovrebbe essere parlante vediamo un po' trending trending profile ok vediamo qui con i chiacciola poi dipende anche cosa indicizzato i profili per cui i video pubblici vediamo vediamo di fare un filtro per cui vado prima per togliermi i dubbi su l'url in uno mi vado a cercare salvini per cui tiktok con due l per cui tag salvini chiacciola salvini e poi diciamo altri tag per cui sono j salvini matite salvini altri altri profili per cui mi ha trovato i tag salvini come tag e come profilo vado per cui su altre cose ad esempio fedez nel url tag fedez music per cui anche diciamo sulla musica chiacciola fedez sul profilo come url sto cercando tag per cui da qui posso capire cosa viene indicizzato come url nel motore ricerca per cui esternamente a tiktok invece di nulla vado su in title mi cerco aspetta un po' aspetta un po' che sto in diretta ok intendo un po' la diretta ok ritorno un po' e vediamo un pochettino di continuare per cui ultime cose su tiktok per cui vado su in title mi trovo ad esempio qualcosa di divertente vediamo un po' anche sul natale per cui natale e vedo che canzoni natale per cui anche condivisioni musica natale qui pronto natale music ancora i tag eccetera per cui anche qui posso andare a filtrare per cui ti volevo mostrare in questa sessione adesso la devo interrompere perché ci sono altre altre esigenze un po' come venivano indicizzati i diciamo i contenuti dei social esternamente motore di ricerca come approfondimento ti suggerisco se vorrai partecipare al mio seminario che te do a gennaio su doceti e che tratterà proprio questo dei approfondimenti su SEO per i social per cui sull'ottimizzazione dei contenuti rispetto a questa prima analisi che ho fatto su tutti i social con i miei iscritti andrò proprio a vedere i loro contenuti e darò dei suggerimenti su come ottimizzarli per cui poi ti do diciamo ti inserisco all'interno del come commento all'interno della diretta questo link ad un prezzo di sodio puoi iscriverti e si te dà il 20 gennaio e andremo per cui analizzare i tuoi di social per cui come sono indicizzati quali contenuti hai espresso hai comunicato i tuoi obiettivi di business eccetera per cui ti darò anche ti mostrerò un'analisi seo interna e esterna dei social come ti ho mostrato adesso nonché degli esempi di ottimizzazione i contenuti e di ottimizzazione dei social in ottica seo ti ringrazio e alle prossime dirette di ottim di ottim di ottim Grazie a tutti.